Ciao, faccio questo video per condividere con te la mia emozione e la mia gioia, che spero che faccia presto parte anche della tua vita. Guarda, sono veramente contenta finalmente di aver scelto di creare il nuovo gruppo Divine Connection, perché stanno accadendo delle cose meravigliose. Stiamo facendo un lavoro molto bello sui sogni, sui sogni no, sulla parte onirica, lo dico perché molti mi hanno chiesto proprio di questo e non è la mia specialità, ma proprio su quello che c'è nascosto nel tuo cuore, magari i sogni che tu avevi quando eri bambino, di cui hai magari perso tracce, perso consapevolezza. E il lavoro che stiamo facendo è veramente molto molto bello, perché ci sta permettendo proprio alle persone di recuperare qualcosa che magari avevano perduto. Ci sono tante persone che hanno smesso addirittura di sognare, sembra incredibile ma è proprio così. Ci sono tante persone che non sanno recuperare un sogno, ci sono tante persone che in qualche modo si adattano nella loro vita perché non conoscono i propri sogni. Ebbene, questo lavoro sta facendo veramente sorgere in ciascuno che si permette di partecipare attivamente la consapevolezza del proprio sogno, del sogno più grande o di uno dei sogni che magari riescono a far rivivere. Ed è veramente molto molto bello, sono veramente grata per quello che sta accadendo. Cosa ne diresti di venire anche tu nel gruppo Divine Connection per metterti in gioco e per vedere fino a che punto puoi arrivare a manifestare qualcosa di veramente grande, di veramente potente, lasciare andare tutto quello che in qualche modo ti limita, quindi vuoto esistenziale, dolore, paure e qualsiasi altra cosa per arrivare a sentirti potente e poter realizzare una vita che ti risuona completamente. Ti saluto e ti auguro una bellissima bellissima serata. Ciao!